Musica Ciao, benvenuto in un nuovo video! Oggi sono qui per parlarti di questo prodotto, lo scrub massage peeling di solid olio. Che dire, già solo il profumo è qualcosa di eccezionale. Ma andiamo direttamente a dunque. Ho testato questo prodotto per parecchio parecchio tempo, perché volevo veramente capirne di più. Mi incuriosivo tantissimo e che dire, è stata veramente una scoperta eccezionale. Tralasciando il fatto che lascia profumato a qualsiasi cosa. Io lo tengo in un cassetto e ogni volta che lo apro esce un profumo di cocco che è qualcosa di eccezionale. E' appunto uno scrub che si può utilizzare sia su tutto il corpo sia sul viso. Io l'ho provato in entrambi i casi, ovviamente. Ed è appunto il top, secondo me. Il top dello scrub. Questo si utilizza sul corpo. Sul corpo si utilizza andando a massaggiare appunto la parte con dei movimenti circolari dal basso verso l'altro. Questo andrà a stimolare la circolazione e successivamente si dovrebbero alternare docce fredde e docce calde. E infine tamponare. Sul viso si va ad inumidire e a massaggiare con dei movimenti circolari, evitando ovviamente la zona delle mucose e degli occhi. E infine si va a sciacquare con dell'acqua tiepida e a tamponare. La pelle risulta immediatamente pulita, compatta, nuova. Se hai veramente la sensazione di avere una pelle nuova è una sensazione troppo bella. Mi sono trovata veramente troppo troppo bene con questo prodotto. Io vi lascio nell'info box tutti i link utili per andare appunto a visitare il sito di Stai Bene Cosmetica. Che ringrazio tantissimo per la collaborazione e per la fiducia. Vi invito a provare questo prodotto perché è buonissimo. Mi ci sono trovata veramente troppo troppo bene. È un prodotto veramente valido. Vi lascio appunto tutte le informazioni utili. Vi invito a iscrivervi al mio canale se ancora non siete iscritti. E noi ci vediamo al prossimo video. Un bacio!